C'erano due compagni, due compagni, uno che stava sposato e un altro che stava a cantare. Allora cosa è spasato? E' un po' di vacanze, due compagni, e mi diceva che io e me già stava spasato, ma stava a cantare la differenza. Un sposo altro ci dice che io gli ho già chiesto la migliaia, sei greca, una migliaia che non mi ha meritato, non mi ha lavandato, non so che mi chiedeva, non so che mi chiedeva, non so che mi chiedeva. E allora quando la vacanze era più dritte da gira, diceva che stava a cantare, non so che mi chiedeva, non so che mi chiedeva, non so che mi chiedeva. Ma metà non si è messo, non so che di. E che ci stava a cantare, un bacanze fuori a casa, non so che mi nas credeva. Dò chiedi a venti, Quando ero ventanotte, sta a far venire tutto l'avent, e sta a venire nascendo lui, sta a dire, ma dono, ma dono l'avent, ma dono l'avent, che mi chiede a poco per i tardi. Però tu hai da portare un uo di gallina nascosto. Quando hai fatto un'ordine, lamento, prende l'uovo, prende l'uovo, e fai finito che sei andato al gabinetto. E porto lui il mano, mi chiede, e mi dice, ah, a gallo ci si, tu mi ci fatti, lui. Io ho fatto un uovo, fatto un uovo, mi è passato un uovo. Ma mi chiede, e se prendete due, per un momento, ecco il uovo di gallina. Però, stati cittadini, non ci sono nessuno. Ancora una donna, non mi riesco di cosa vuole. La mattina seguendo, il marito è stasciuto in campagna, a lavorare. Questa, prima che l'avent, la vicina di casa, ci disse, il marito è mettendo di lavoro stanotte. Ma non guarda come è succeduto. Mi chiede un uovo, mi chiede un uovo, mi chiede un uovo, mi chiede un uovo. Mi chiede un uovo, mi chiede un uovo, mi chiede un uovo, mi chiede un uovo. Ma non parla di aletto. Mi chiede un uovo. Quella donna è uscita dalla casa, andò all'altra, e ci disse, un marito di quelli, e fatto due uovo, l'altro, finito all'altro, e fatto tre uovo. Fin'è tanto lungo la strada, dove abitava, si ritrova la campagna, il marito. Quando si è detto di essere due donne, ui, con la faccia di uovo. Come non mi chiede un uovo, mi chiede un uovo, e mi chiede un uovo. L'altro, un uovo, per un color, ha fatto quaranta, e mi chiede un uovo. L'altro, un uovo, con il quattro tre, arriva un uovo a me chiede un uovo, e il compagno suo, che stava a aspettare la risposta, e sape come è succeduto. e mi chiede un uovo, che la mattina è seguente, tutti l'altro compagno, si bandì il paese, il paese è picco. Si, è venuto cosa vuoi, ui, cosa vuoi, e gli assai cosa vuoi. Grazie.